Salve amici del Centro Meteo Italiano, prossimi giorni con minimo depressionario sul Mediterraneo e tempo instabile. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 2 marzo. Cieli nuvolosi al mattino su gran parte della penisola ma con deboli piogge solo su regioni settentrionali e Sardegna. Neve oltre i 600-900 metri. Al pomeriggio peggiore al centro-sud con piogge e acquazioni sparsi e neve in appennino oltre i 1000-1400 metri. Più asciutto al nord salvo deboli nevicate sulle Alpi. Il serato è notta da tempo in miglioramento con residui e precipitazioni solo su Toscana, Lazio, Puglia e Sardegna. Temperature minime e massime in rialzo al centro-nord e il lieve calo al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.